Primo quadro, multivisionista di Cristiano Emanuele Aranghetto. Più punti di vista in una sola opera d'arte. Il quadro giro a se stesso e appaiono nuove immagini, nuove visioni. In un solo quadro. Il quadro giro a se stesso e appaiono nuove visioni. Il quadro giro. Prima opera multimisionista di Crei. Il quadro giro. Il quadro giro. Il quadro giro. Il quadro giro.